amici di twitch buonasera a tutti come state avete passato un buon fine settimana ciao amici di twitch buonasera a tutti allora fatemi vedere chi c'è per fare subito i saluti del caso ovviamente un saluto ai mod che tengono la chat sempre bella cordiale e pulita bannando chi devono bannare jackie chiara e fanpage vedo ciao ragazzuoli un saluto anche ai nostri vip attualmente i vip connessi sono lost boy under the hood e mica il 94 ovviamente un saluto anche a tutti gli altri che sono qui seguendo la diretta di questa sera ciao a tutti gli altri e certo non siete vip non avete il saluto personalizzato però quasi 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 allora passiamo prima di ringraziare il nostro super ospite di questa sera che è veramente super per la disponibilità per essere qui con noi quindi grazie mille simone prego grazie a voi io andrei subito a elencare a mostrarvi a dirvi comandi chat in modo tale da non tornarci successivamente aspettate un ritorno di audio può essere il telefono ok ok allora mutiamo lo mutiamo così non ce l'abbiamo più ciao gabriel allora eccolo perfetto comandi chat punto esclamativo telegram vi rimanda al nostro canale telegram ufficiale dove in anteprima rispetto a tutti gli altri social cosa avrete programmazione settimanale ospiti momenti clip momenti meme eventi online e dal vivo in cui siamo coinvolti e vi prepariamo anche al nostro ospite ad esempio oggi per simone abbiamo messo una bellissima clip tratta da friends che io non avevo personalmente visto mi sono pisciato sotto alle risate dove c'è rossa al centro al bronzante che doveva farsi due spruzzate davanti due spruzzate dietro invece in realtà poi per un problema per un altro se ne fa otto davanti ed è stata una clip divertentissima quindi punto esclamativo telegram è gratis insomma iscrivetevi cosa fa spanchi punto esclamativo sub ragazzi con soli 3 euro e 99 in su vi permette di abbonarvi al nostro canale e questo vi consente di non vedere la pubblicità quindi i nostri discorsi non verranno mai interrotti potrete eseguire fluidamente e vi permette di usare le emoticon personalizzate di giocare con noi ai let's play sub edition che ci sono spesse volte spesse volte venite con noi in diretta e soprattutto entrate nel gruppo telegram dove ci siamo noi streamer dove ci sono alcuni doppiatori che abbiamo avuto come ospiti e tante altre persone un po' pazzerelle ma scusate ho detto dai 3 99 in su si abbiamo zone prime è gratis e tutto ciò è gratis porca paletta spanchi stiamo migliorando e l'altra volta ti ho dato 4 meno oggi ti do 6 più brava brava spanchi sei politico brava spanchi brava brava allora luciano luciano cosa fa punto esclamativo ospite rimanda direttamente al social di simone che in questo caso abbiamo solo instagram seguitelo in in tanti e così lo facciamo salire di follower anche se in tantissimi ragazzi fantastico poi punto esclamativo quote questa è una cosa che abbiamo solo noi di cui andiamo molto fieri la usate tantissimo quindi sono gli aforismi del canale sono quelle frasi storiche detto da noi o dai nostri ospiti che rimangono lì in questo calderone e vengono pescate a caso quando voi usate il comando quindi ad esempio mi viene in mente orizzontalmente accessibile di alessio cigliano o un pezzo di storia del cinema italiano di loris lodi oppure può farmi una voce da cosmetico di pasquale anselmo detta da un funzionario insomma tante belle frasi che vedo che state ecco anche questa più che un leone questa sembrava una pantona sexy sexy me lo dico da solo il man esatto insomma quindi lo usate poi punto esclamativo dimmi a proposito di quote stiamo preparando qualcosa di bomba sì ma non si dirà in questa occasione si dirà poi si dirà poi però stiamo preparando una cosa carina punto esclamativo vive i social pile i social di una realtà con la quale collaboriamo la vive production punto esclamativo partners i nostri social partners salutiamo le voci del doppiaggio roba da doppiatori gioidaru e anche punto esclamativo merce del merchandising abbiamo fatto simone siamo stati veloci velocissimi io nel frattempo facevo cose quindi facevi cose ok ok quindi l'attesa non è stata troppo lunga mettiamola bene bene allora simone io ti andrei a fare la nostra prima domanda perché noi non sappiamo mai dove andiamo a parare con queste dirette però abbiamo due costanti che sono la domanda iniziale e quella finale quella iniziale un po devo dire psicanalitica perché molti mi hanno detto eh vabbè adesso mi sdraio mi metto sul lettino però esatto però secondo me curioso esatto però secondo me è bello vedere come rispondete ognuno di voi e te la vado a porre io ti chiederei chi è simone non tanto dal punto di vista professionale perché poi avremo modo di parlarne durante la nostra diretta quanto dal punto di vista di simone stesso quindi come ti vedi tu a livello di passioni hobby e aspetti caratteriali complicato ce ne sono ce ne sono parecchi di simone soprattutto ce ne sono stati parecchi di simone nel senso che sono cambiato tanto col passare degli anni e sicuramente sono stato sportivo per tantissimo tempo ho avuto un po' d'acciacchi ossa ernie c'ho una gamba praticamente di tutta di titanio quindi ho dovuto mollare di botto tutto lo sport e ne facevo tanto e questo mi è pesato tanto ho compensato con una passione che già avevo prima ho continuato che è quella dei viaggi e che purtroppo negli ultimi anni chiaramente è stata soppressa anche quella certo e mi piace fare le cose al meglio delle mie possibilità questo sicuramente in qualsiasi cosa che faccio io rischio che rasento l'ossessivo compulsivo quindi sono abbastanza perfezionista non in tutto è in alcune cose mia moglie soprattutto mi dice che solo quando mi pare sono ossessivo compulsivo però quando mi pare lo sono in maniera abbastanza pesante sono molto curioso ecco questo sicuramente curioso della vita di del mondo di quello che succede mi piace molto leggere e questo rientra nella curiosità anche il viaggio rientra nella curiosità ho avuto la fortuna di fare anche viaggi un po particolari tipo l'everest però l'everest è arrivato a campo 1 e non sono arrivato in vetta ero ospite sono andato in bucato come speaker di un filmato della società farmaceutica che finanziava la spedizione e sono andato a fare lo speaker per questi filmati interni chiaramente speaker che ho fatto a roma però mi sono fatto un mese in cina tibet campo base katmandu insomma stato bello belle esperienze al polo sud è più o meno uguale polo sud poi aspetta in antartide polo sud non ci sono arrivato neanche là però ecco ho avuto come ho avuto l'opportunità di fare queste cose particolari le ho sempre colte al volo che bello questi sono viaggi poi bellissime e neanche per tutti nel senso sono posti comunque in alcuni casi impegnativi anche estremi no perché mi viene in mente l'everest sia fisicamente che mentalmente anche economicamente soprattutto nel senso il campo base di là dell'impegno fisico che è problematico perché sta 5200 metri già al campo base si respira male sono stati 20 giorni il problema è che è inaccessibile veramente economicamente io sono andato sfruttando questa occasione perché l'accesso mi pare che costi 200 mila euro ogni cinque persone accesso al campo base sì quindi è 200 mila euro proibitivo per molti sicuramente non so le vostre disponibilità finanziarie ma molto proibitivo ma capito 200 mila euro per cinque persone sono tante 40 mila euro per una live del campo base perché no perché no io non potrei andarci perché è un viaggio che a me piacerebbe tantissimo fare però insomma anche a livello mentale insomma non hai i comfort a cui molte persone sono abituate non hai niente niente cioè la natura è bellissima però in tenda in bagno da lontani e la fai da qualche parte te lavi con le salviette umidificate per tutto il tempo che stai lì ma come si fa col freddo simone è tollerabile no io sono andato nella stagione che facevano la vetta non fa freddissimo sono condizioni particolari per cui quando c'è il sole fa caldissimo perché essendo molto alto non c'è filtro per cui sei obbligato a girare con gli occhiali col filtro UV col naso coperto crema solare sempre perché ti uscione fa caldissimo come passa una nuvola e copre il sole vai intorno a zero istantaneamente quindi vai in giro in maglietta devi portarti sempre la giacca legata in vita perché se si copre il sole devi immediatamente rimediare ma la cosa bella è stato il viaggio da Lhasa al campo base cinque giorni in macchina attraversando posti meravigliosi ci si arriva in macchina quindi al campo base? sì è bello che deve essere anche il polo sud insomma deve essere stata un'altra bella esperienza quello è stata faticosa la traversata del canale di Drake da Ushuaia in barca fino in Antartide è il mare più tempestoso del mondo perché si uniscono il Pacifico e l'Atlantico che hanno un forte dislivello per cui il mare lì è sempre mosso e fargli un complimento altro che bocca del bonifacio vero vero e senti invece il lato sportivo hai detto che sei cosa perché hai abbandonato diciamo che cosa hai abbandonato nello specifico? allora da ragazzino ne ho fatti tanti di sport a buon livello ho fatto nuoto ho fatto tennis a un buon livello e a pallone insomma a livello amatoriale però insomma ho sempre giocato prima squadra terza categoria seconda categoria questa roba qua e poi ho continuato a fare sport quando ho iniziato a lavorare per diletto solo che ho avuto problemi alla schiena quando ho cominciato ad andare in sovrappeso mi sono rovinato parecchio vertebre e articolazioni articolazioni tra incidenti in moto e incidenti calcistici me le sono tritato per bene ho finito i menischi intorno ai 23 anni ecco e qui ritorna come diceva in chat Willo no? il tutto in moto con le bombole se no perdiamo la continuità con gli altri doppiatori perché devi sapere Simone che noi abbiamo avuto tanti tuoi colleghi abbiamo capito che a livello di interessi va molto per la maggiore la subacquea da un lato e le moto dall'altro quindi anche tu chevalier sott'acqua l'ho portato io per la prima volta e infatti ce l'ha detto l'altro l'abbiamo avuto venerdì e io sono sub da quando avevo 16 anni che all'epoca bisognava chiedere il permesso ai genitori per poter fare il corso e io dico sempre che ho iniziato a fare subacqua che non esistevano i manometri e non esisteva il GAV non so se voi fate immersione e sapete cosa sono il manometro si il GAV il GAV è quella specie di giubbotto che si gonfia che ti tiene a galla che serve per l'emergenza non esisteva il manometro non esisteva perché c'era l'asta della riserva quando finivi l'aria tiravi una bacchetta che ti apriva una riservetta e l'ho fatto per tanti anni però mi sono rotto ho fatto più di 500 immersioni però è faticoso quando vai a fare le vacanze sub fai una settimana d'inferno se sempre anfilate la muta levate la muta levate la muta levate le pinne levate le pinne sì effettivamente sembra scomodo però è bellissimo immagini bellissimo ci credo Luciano dimmi stavo dicendo dopo dai la cera togli la cera metti la muta togli la muta esatto il maestro Miyagi esatto e dici no dico infatti è bello andarlo a fare che ne so Maldive Mar Rosso vai a fare il colonialista che ci sono quelli in barca che te levano tutto ti acchiappano loro ti tirano ti mollano almeno così un pochino te la godi te la godi un po' di più è vero io però adesso adesso ci hai detto tutti questi interessi insomma dato che sei una persona molto curiosa sono curioso anch'io di sapere se tornando anche al diciamo alla alla recitazione al doppiaggio no abbiamo capito che per essere un attore un doppiatore essendo anche un lavoro molto bello ma anche molto impegnativo devi avere tanta passione anche nel farlo io ti chiederei se potessi scegliere qualsiasi cosa il tuo lavoro coincide con la tua grande passione oppure saresti voluto essere non so un musicista un un astronauta quel sogno che magari è nel cassetto hai sempre avuto nel cassetto e non hai mai potuto no faccio quello che mi piace fare sicuramente io ho sempre detto che se non avessi fatto questo i miei sogni sono due il ferramenta avrei un ferramenta grosso però solo che adesso con l'erua merlena sarei rovinato perché eh sì eh io sono pazzo dei ferramenta me comprerei tutto dal ferramenta e il portiere ma no di calcio portiere di stabile che hai visto che curiosi questi due dentro la guardiola così perché io sono sono un po' suocera ma così sai tutti gli inghippi di tutti sai cavoli di tutti poi a Pasqua e a Natale ti danno tutti la mancia vero poi vai a cambiare la lampadina la signora anziana ti allunga la mancetta in nero chiaramente certo ci dissociamo ma certo ci dissociamo ma è vero ed è un lavoro sociale conosci tutti chiacchieri con tutti vedi chi arriva chi va guarda che sempre per la curiosità questo si ricollega anche questo certo assolutamente però top è il ferramenta ma il ferramenta perché sei uno di quegli uomini che sa fare tutto cioè che sguoggia nel lavandino e si mette lì ha il pezzo giusto al momento giusto nel allora adesso non più non mi va più non c'è la faccia non mi riesco a inginocchiare mi fa male tutto il titanio nella gamba vabbè ma una cosa in alto sì quello sì però io in passato ho fatto tutto io ho comprato casa relativamente giovane ho vent'anni quando sono riuscito a comprarmi casa con molti sacrifici nel senso che quando ho comprato casa non avevo più una lira e la casa era rudere rudere no però insomma era ridotta male mi sono fatto tutto da solo perché non c'avevo una lira si fa di necessità virtù avevo un mio amico il papà faceva il muratore insomma sapeva fare tutto quindi quando dovevo fare qualche cosa andavo da lui mi facevano spiegare e poi ho fatto tutto io poi l'ho rifatta quando ho messo da parte un po' dei soldini dopo dieci quando ho finito di pagarla ho acceso un altro mutuo per per ripare la casa per istrutturare però ma fin da piccolo mi è sempre piaciuto la corrente il muratore l'unica cosa che non mi sconfinfe era l'idraulica quella che ha nominato proprio quella che l'idraulica l'abbiamo subito scoperta l'idraulica è difficile difficile non me ne intendo neanche io neanche io non c'è nel frattempo Simone hanno suggerito una frase storica che io ho inserito è proprio questa dei sogni nel cassetto ed è i miei sogni nel cassetto sono sempre stati due il ferramenta il portiere di stabile insomma Simone si è entrato anche te nelle quote questa è la numero 144 quindi complimenti 144 Simone vorrei chiederti una curiosità dimmi siccome forse ce l'ho anch'io quella è la maglietta il bere vince contro il male sì no il bere il bere il bere vince sempre contro il male assolutamente il febularissima libertà il febularissima libertà bravo ce l'ho anch'io fantastica ammazza come l'hai riconosciuta Lucia l'hai riconosciuta da un pezzettino aperta guarda che occhio eh si vede il guanto col calice sì sì però si è stato bravo hai capito hai capito lupo Lucio con gli occhiali nuovi vede tutto hai capito hai capito allora io faccio l'ultima domanda a Simone poi lascio lo lascio a voi perché se no mi dite che io sequestro gli ospiti e quindi non potete più dirlo dai un po' vabbè adesso la faccio per ultimo vai spanchi a te va bene io volevo sapere di tutti questi viaggi che hai fatto se ce n'è uno in particolare che ti ha ispirato profondamente cioè che ti ha ispirato in qualche modo e che ti sei trascinato fino a casa per l'uomo guarda tutti tutti i viaggi mi hanno sempre lasciato qualcosa a me piace piace viaggiare mi piace vedere cose diverse mi piace mangiare cose diverse io assaggio tutto ma tutto veramente anche roba impegnativa ma assaggeresti anche perché io sono stato anche in Thailandia a Bali assaggeresti anche gli scarafaggi e cavalletti sì fatto 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 che sapori hanno fatto serpente le patatine fritte perché friggono con un olio che credo che stia dentro gli autocarri quindi potresti friggere anche un pezzo di cartone che coraggio che coraggio è mazza no no tutti qualcosa di particolare sicuramente l'Everest è stata una cosa particolare perché è una cosa difficilmente ripetibile però anche cose molto più semplici viaggi magari anche inaspettati in posti che non pensavi fossero così belli e rimani affascinato e l'Italia è bella e ce n'è tanta per esempio mi piacerebbe girare bene il Veneto perché ogni tanto ho visto delle trasmissioni in tv che hanno fatto vedere delle cittadine del Veneto bellissime e io lo conosco nonostante io abbia molti parenti in Veneto tra Venezia e Treviso però non l'ho mai girato e l'Italia è tanta roba sì sì è vero è verissimo la Sardegna la so a memoria sono andato in Sardegna la prima le prime volte che andavo in vacanza in Sardegna c'era un traghetto a settimana lo dovevamo prenotare non lo so a novembre andavamo a via Bissolati a prenotare il traghetto perché se non lo prendevi il giorno che volevi partire dovevi prenderlo la settimana dopo e andavamo e c'era un signore sardo di Oristano un collega di mio zio col quale andavamo in vacanza che era della Sardegna veniva il giorno di Ferragosto e ci portava il maialino e faceva lui il maialino sulla spiaggia e ci portava sempre in spiagge particolari nuove quando arrivavamo e c'erano due persone dicendo andiamo via che è pieno di gente bello il mio sogno a Ferragosto in Sardegna il mio sogno spiagge deserte a Ferragosto fantastico Luciano vai vado allora io ho adorato il tuo personaggio di Basher nella trilogia di Oceans sì e ti volevo chiedere quando l'avete doppiato comunque hai qualche aneddoto e poi voglio chiedere eravate tutti assieme in sala o eravate già in colonna separata no no eravamo tutti insieme e sicuramente ce l'ho un aneddoto e se hai visto tutti i film probabilmente se non te ne sei accorto te ne accorgerai la prossima volta il direttore era Marco Mete almeno del primo forse di tutti e quando abbiamo fatto il primo lui sembrava che parlasse una specie quasi in rima facesse delle cose strane e abbiamo provato a fare questa cosa non molto riuscito a me non è piaciuto molto il risultato però era abbastanza somigliante a quello che faceva lui quando sono arrivati gli altri film è una cosa che non abbiamo più fatto quindi io ho un modo di parlare nel primo film in Ocean Eleven che non ho in Twelve e Thirteen comunque si la diretti tutti a tre Marco ho trovato adesso e io ho diretto Ocean Eight si? quello con le donne bellissimo sono di parte bellissimo si è molto figo molto figo si d'altro ne abbiamo parlato con Anna quando c'era stata lei ospite con Anna Cesarene si che lei faceva Sandra Bullock si si io però ho poi più in là una curiosità su un film che ho adorato e penso che sia un po' di nicchia per il nostro pubblico però Spanky già sa dove voglio andare a parare che è un film che dove tu doppiavi il coprotagonista maschile che è un attore che non c'è più che si chiama Bernie Mac e il film indovina chi non so se te lo ricordi Bernie Mac è il Nerone di Oceans giusto? si c'è anche in Oceans giusto? si però in quel film c'era anche Aston Kutcher e tu gli davi la voce si faceva Frank ed era Percy Johnson non so se te lo ricordi è un film dove c'era Zulia Saldana che era di colore e si andava a fidanzare con Aston Kutcher che era bianco e Bernie Mac che era il suo papà no? ah un po' indovina chi viene a cena e tipo chi viene a cena è risidato ma è un film pagamente ma me lo ricordi si è stato fantastico grazie come sempre come sempre però beh sì anche i commenti quando fai poi va te la racconto io quella che non è dove non sei stato fantastico vai dicela subito dicela allora un anno c'era povero Vittorio De Angelis che dirigeva questo film bruttissimo l'idea era figa perché non ci ha mai pensato nessuno un campo di prigioniere in Vietnam con i prigionieri americani che erano rimasti in là dopo la fine della guerra un'idea una geniale nessuno ci ha mai pensato e c'era il protagonista che è oddio quello di American Psycho come si chiama l'attore Christian Bale grazie con Christian Bale e vado a fare il turno e mi trovo a doppiare Christian Bale che era cioè a barbalunga sozzone poi era lì prigioniero da vent'anni ma io gli ho detto scusa ma perché ho messo Christian Bale io c'entro un cacchio su Christian Bale dico ma Riccardo no Riccardo non può perché Riccardo Rossi salva della libertà il film bravo batta a sentire no bravo credo nel senso che mi fido no non può non può mi faccio un paio di dico ma scusa mi dico ma fallo te che ci stai bene l'hai pure doppiato dici no non mi fate fatti l'attore quando ti dico dai ma guarda che qua lui è tutto particolare perché è sporco vabbè faccio optortocollo questo Christian Bale su questo film su Antonio Genna conoscete Antonio Genna sì c'era non credo ci sia più c'era una chat facevano una challenge tutti gli anni il peggior abbinamento voce-volto ho vinto io quello andai su Christian Bale su Christian Bale ci sto veramente male non conoscevo questo molto di un canale a vedere Luciano ti sto guardando non conoscevo questo contest ma non c'è più credo ma non c'è più neanche la possibilità credo di scriverci che devi scrivere da qualche altra parte non so bene però adesso adesso sono curiosissimo la prima cosa che faccio finita la diretta è andare a pescare questo film e guardarlo Luciano ci manderà il drink Luciano si guarda vai avanti perché il film è brutto forte ok vado solo al pezzo in cui parli ma io non ci credo non ci credo comunque non ci credo esatto non sto dicendo che non ero bravo assoluto no infatti ci stavo male ci stavo male ti farò sapere non tutti stiamo bene su tutto questo è vero questo è vero Simone invece quando quando è nata la passione no l'idea di approcciarti alla recitazione prima e al doppiaggio poi e sono curioso di sapere se c'è stato proprio un punto specifico della tua vita dove hai detto ok questo è il punto di svolta nel senso da qui in poi ce la posso fare allora mio padre faceva l'attore e da piccolo ho provato a farmi doppiare mi ricordo solo 6 o 7 anni ho fatto un film come doppiatore non mi è piaciuto ok e ho detto no io poi ando a scuola fa sport poi vi racconterò un aneddoto di Riccardo Rossi sullo sport giovanile poi vi ricordate va bene e e quindi ho detto che no non mi interessava ero timido non mi interessava poi mio padre quando avevo forse 15 anni 14 15 16 anni non me lo ricordo esattamente ripresa a fare teatro che non faceva da tanto tempo da quando era giovane però ha fatto compagnia con Gasman insomma con le compagnie più grosse poi ha cominciato a fare tanta televisione con il doppiaggio e il teatro non l'ha più fatto e ripresa a fare uno spettacolo con Modugno che era il Cirano di Bergerac con Domenico Modugno Catherine Spack insomma lui faceva Visconti di Chici io andavo tutte le sere siccome è stato a Roma quasi sempre a Roma un anno al Teatro D'Anda un anno al Giulio Cesare che era teatro sì e io andavo tutte le sere tutte le sere gli facevo il trucco e mi sono un po' innamorato del dell'ambiente 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 teatro mi piaceva questa cosa sapevo le parti di potevo sostituire tutti tutti anche perché ho visto credo 400 repliche dallo spettacolo e lì mi è cominciato a venire lo sghiribizzo che però mi sono tenuto per me e poi a un certo punto più o meno finito il liceo sì o poco prima non ricordo esattamente l'ho detto a mio padre ho detto guarda ho deciso voglio fare l'attore mio padre mi ha detto scordati che io ti agevoli in qualche modo ti faccia saltare no ti agevoli no mi ha già anche agevolato scordati che io ti faccia saltare dei passaggi se vuoi fare l'attore fai il progetto in un'accademia in arte drammatica fai la tua scuola studi e poi vedremo se sarà cosa se sarà in grado se lo potrai fare ti piacerà questo è stato l'inizio chiaramente appena ho iniziato a studiare recitazione ho cominciato a fare i primi turnetti di Brusio economicamente il doppiaggio è una mano santa per chi fa per chi fa il nostro lavoro infatti ci sono tantissimi attori che provano ad approcciare al doppiaggio perché è una fonte di guadagno che molti attori non hanno perché uno attori pensa sempre a quelli famosi ma tutti gli altri anche attori che se vedi riconosci perché li vedi tanto che lavorano tanto la loro fonte di guadagno è sempre molto anche perché adesso si guadagna pochissimo è molto più bassa rispetto a quella del doppiaggio che non è pagatissimo ma ha una continuità tale per cui le porta se sei uno che lavora tanto a guadagnare bene insomma poi in quest'epoca con tutti questi sorvoliamo sul problema del covid io no a parte no intendevo intendevo che con tutte queste piattaforme streaming e questi nuovi prodotti il doppiaggio comunque ha preso un po' di respiro oppure no sì sicuramente sì ma mai proporzionalmente all'aumento dei doppiatori io quando ho iniziato a fare doppiaggio si facevano dieci anni di cavetta dove facevi i brusì che erano brusì veri perché adesso ci sono le colonne internazionali la musica effetti e le basi non si fanno più cioè il famoso Rabarbaro una volta si chiamava Rabarbaro però non si fa più non si fa più perché c'è sulla colonna internazionale si fanno solo le battutine anche all'interno di Rabarbarbaro di brusì si fanno quelli dove c'è una folla che reagisce se uno dice allora assaltiamo tutti il Campidoglio sii allora se devi dire si quello lì lo devi fare passano all'ambiente di bar quelli che entrano dentro al bar e parlano l'ambiente non lo fai più fai il barista che dice un caffè e a fare questi turni di brusì di tutto quello che si faceva eravamo 30 25 30 persone che cominciavano tra maschio e femmine e di varia età chiaramente perché brusìo ci vogliono i giovani ma ci vogliono anche quelli più grandi adesso quindi erano 30 persone che o cominciavano erano persone grandi che magari non avevano avuto una grande carriera adesso che cominciano ce ne saranno 3.000 e non è cento volte tanto il lavoro quindi è un problema io ho comprato casa che facevo ancora i turni di brusìo e facevo una media di 30 turni al mese ed ero agli inizi perché l'ho comprata nel 90 io ho cominciato nell'86 che ho finito il militare e adesso chi comincia di turni al mese ne fa due allora si crea anche un problema la gavetta che noi facevamo di 10 anni a 30 turni al mese in 10 anni quanti turni hai fatto a 2 turni al mese per fare lo stesso numero di turni cioè per avere la stessa esperienza che facevamo noi in 10 anni 8 10 10 dico indicativamente quanto ci metti eh sì è chiaro è un problema e poi non ci sono più quelle tempistiche le tempistiche si sono molto ristrette per cui noi avevamo tempo di imparare perché c'erano i vecchi doppiatori che ci insegnavano io poi essendo figlio di mio padre c'era sempre l'occhio di riguardo ma l'occhio di riguardo significa che mi spiegavano di più nel senso ci tenevano magari a insegnarmi il mestiere perché c'era il tempo adesso il tempo non c'è più non ci sono più i brusi quindi devi venire a fare le battute le devi già saper fare io non posso perdere più di tot tempo a insegnarti questo lavoro è tutto è tutto molto complicato senza parlare del problema del covid che adesso i ragazzi che cominciano che prima venivano si affacciavano chiedevano il provino ora non si possono neanche far entrare perché se non hanno il collocamento non non puoi farli entrare nello stabilimento per le norme anti-covid e quindi è molto più complesso eh sì molto e comunque io ho una mia opinione che tra dieci anni che sto lavoro non esisterà più quindi ah sì ma per il discorso dell'intelligenza dell'intelligenza artificiale per quello assolutamente sì io ho sentito cose fatte con questi nuovi soft non quello israeliano che è farlo quella è una crowdfound lì come si chiamano quella è una raccorta fondi è un farlocco io ne ho sentito uno che fanno all'euro a spinacito per l'esattezza c'è questa società che sta facendo questo software io ho sentito delle cose fatte da colleghi ma non fatte da colleghi cioè ho sentito delle cose e il collega mi ha fatto di specie mi ha detto io non ho detto niente di tutto questo io ho fatto altre cose ho fatto letture con varie tipologie arrabbiato morbido più duro eccetera eccetera e poi fa tutto software l'ho sentito sono impressionanti ma il problema non è quello il problema è che quando questa tecnologia allora in questo momento non si può far parlare in italiano cioè tu puoi campionare una voce italiana e farla parlare in italiano se tu campioni una voce inglese la fai parlare in italiano sembra stallio se campioni una voce francese la fai parlare in italiano sembra l'ispettore Clouseau ancora non è una questo è ma questo si supererà con la velocità con cui va la tecnologia io dico dieci anni non credo di essere lontano dalla verità quando Tom Cruise potrà doppiarsi da solo nel senso che con la voce di Tom Cruise fanno recitare Tom Cruise in italiano non ci saranno neanche gli appigli legali per poter dire no tu non lo puoi fare ok e in quel momento il giorno stesso che questo si potrà fare il doppiaggio sarà morto istantaneamente perché i costi sono talmente inferiori e il fatto di avere la voce dell'attore vero è anche un grosso traino per staccarsi esatto quando anche non lo fosse un plus nel senso che se questa tecnologia inizialmente non ti farà magari non avrai la qualità recitativa dell'originale e neanche del bravo doppiatore italiano ma sarà talmente vendibile che il pubblico si abituerà molto in fretta molto in fretta e noi ci abitueranno alla scarsa qualità ma non è detto non è detto probabilmente alla qualità un pochino inferiore all'inizio ma poi infatti forse la qualità migliore cioè io sono fermamente convinto che John C. Riley sia più bravo di me che Tom Cruise sia più bravo di Roberto Chevalier che Meryl Streep sia più brava di Maria Pia di me o anche se Maria Pia di me è talmente brava quindi chi può dirlo e sì anche perché Spanchi Simone prima ci ha detto che lui l'ha sentita e dice che italiano su italiano è impressionante quindi ce l'ho ce l'ho nel telefonino attenzione oddio non ve la posso far sentire ma restano in diretta se ha detto se insomma un attore doppiatore del suo calibro ha detto che è impressionante e siamo comunque diciamo agli inizi probabilmente tra dieci anni la qualità sarà ancora migliore e si supererà questo fatto della lingua secondo me e se si supera questo poi allora la velocità di esecuzione cioè loro inseriscono con una tastiera il testo sì con dei segni particolari tipo che ne so ti va la spagnola nell'interrogativo in testa tipo per dargli l'intonazione il modo in cui dire ma doppiano un film in in un giorno con le voci originali ma l'adattamento e cioè l'adattamento dialoghi per il labiale queste cose comunque rimarrà chi li fa questi testi che battono poi meccaniche beh un adattatore quello sì cioè quindi una branchia l'adattatore rimarrà ma secondo me rimarrà anche in parte minore nel senso che si può adeguare anche forse la velocità della dizione per cui sì chiaro non può essere più lunga le sette parole però è un incubo si arriverà a tutto si arriverà a prendere anche i labiali a parte che col face morphing se inseriscono anche quello li fai parlare in italiano in chat dicono in chat scrivono io sto col doppiaggio intelligente io credo che il pubblico si ribellerà non si è mai ribellato speriamo di no Simone speriamo che voi rimanete in vita noi robot guarda io tra sei anni vado in pensione quindi chi se ne frega ecco ok non si ribella mai nessuno non si è mai ribellato nessuno a niente alle sostituzioni delle voci all'abbassamento della qualità al cambio delle voci e quando io ho iniziato storicamente c'erano i i grandi attori avevano sempre la stessa voce no Robert Redford è stato doppiato da Barbetti su 99 film su 100 e se non lo doppia è perché era lui che stava fuori dall'interno d'Italia e hanno cominciato a spezzare questa cosa perché dava potere contrattuale al doppiatore se io ho doppiato sugli ultimi 100 film un attore arriva il 101esimo film e io chiedo una cifra che non mi voglio notare è difficile sostituirmi perché la gente è molto abituata se un attore da quando comincia lo fai doppiare da oggi uno un domani in altro un altro un altro un altro lo puoi cambiare come ti pare certo ti dici no ti diceva bene grazie vado da quest'altro che non è successo niente non si sono riportate i poltroni dei cinema la gente ha continuato a guardare i film certo no no quello è vero io fino ad ora pensavo sinceramente che non si riuscisse a dare diciamo quell'intensità quell'emozione che magari un vero attore nella nostra lingua poteva dare al personaggio però insomma se tu l'hai sentito hai detto che invece io ho sentito un documentario quindi non c'è sync tranne un paio di punti dove viene in campo però un simil sync quindi insomma non c'erano grandi problemi labiali a livello di intonazione calcola che il pezzetto che ciò io saranno 5 minuti di roba ci sono due frasi che sono un po' strane ma data la qualità del doppiatore campionato ci sono doppiatori che in 5 minuti ne fanno di molte molte più intonazioni brutte facendole dal vivo quindi la qualità è assolutamente buona quindi questa tua testimonianza ha praticamente ribaltato il nostro pensiero insomma quello che vedremo questa è una mia certo personalissima opinione io ho una grande fiducia nella tecnologia per quello che io mi ricordo ancora quando vedi Minority Report al cinema e dice ah che cazzata oh se vuoi dire cazzata si si può dire se vuoi dire quello che apre le immagini con le dita che spostava che faceva scorrere le immagini che figata questa cosa qua ce l'avamo sul telefonino si la tecnologia è vero è impressionante a che livelli perché voi siete giovani io ho visto Minority Report e non esistono neanche i telefonini ed era una roba che vedevi sta cosa una figata questa c'era questa immagine faceva scorrere con le mani allargava le foto con le dita e invece ad oggi li abbiamo e ce l'abbiamo di che anno Minority Report tu che stai sul pezzo Luciano Luciano dici l'anno di Minority Report vedo vedo ha fatto 20 anni 20 anni del 2002 20 anni però è già un po' che ci sono le foto che sta allargher io ho detto 10 15 10 è vero poi io mi auguro di no no certo però insomma il fatto è che fino ad ora avevamo perché io ti credo capito Simone quello che dici io ci credo tutto quello che dici si spanchi in modalità fan girl anche stasera devi sapere Simone che era tutta eccitata addio che bello perché insomma è molto bello averti qui però spanchi è la meno professionale di tutti perché sta così come parli facci caso sta così perché sono una super fan di questo mondo e anche di Simone tu sei una un'attrice doppietrice mancata diciamolo diciamolo vero adesso c'è la tecnologia spanchi eh niente c'è la tecnologia non farei comunque in tempo è inutile iniziare hai sentito Simone mettici una pietra sopra e dai scherzi a parte invece Simone io ti vorrei chiedere del proposito di Friends cioè Friends è una serie iconica no che diciamo ha fatto storie è diventata cult e ha dato anche il via poi a tante è stata la mamma di tante altre serie come mi viene in mente a metti ormai ma anche Will e Grace quando ti sei approcciato per la prima volta nel senso sei vinto un provino come è andata la cosa e soprattutto se quando hai iniziato avevi idea di che fenomeno di massa sarebbe diventata poi bella domanda allora il provino non te l'hanno mai chiesto non me lo ricordo sinceramente non me lo ricordo non me lo ricordo non te lo ricordi non avete avuto Eleonora qualcuno Massimo dopo ci lasci qualche nome chiedetelo a loro lo chiederemo a loro che se c'è stato un provino ok poi so passare anche tanti anni c'è da dire beh quasi forse sì ma vabbè non me viene e allora quello che so è che abbiamo iniziato facendoli tutti insieme per la tv svizzera e che è stata un po' la rovina per quanto ci riguarda della serie perché i primi due anni li abbiamo fatti direttamente per la tv svizzera che poi vendeva il prodotto già editato alla Rai ok e solo la tv svizzera sono bacchettoni e quindi edulcoravano tutto ma in maniera poi abbiamo un po' riguadagnato però comunque siamo rimasti nel mood quindi noi comunque abbiamo continuato un pochino edulcorare loro andavano giù più dritti sul sesso sui gay io c'avevo mia moglie che era lesbica cioè loro i termini c'erano andavano giù più crudi delle cose che facevano levare che erano un po' politically incorrect quindi non la vivevamo bene la solita censura si va per gli svizzeri sono belli bacchettoni all'epoca almeno poi insomma la vivevamo male per il semplice fatto che noi abbiamo cominciato a farla tutti insieme e ci divertiamo come dei pazzi perché noi la vediamo in originale infatti a chi quando è cominciata la prima stagione ci dicevano che figata quella serie che fate noi diciamo e sapete quanto siamo fortunati noi che la vediamo in originale perché all'epoca non c'era la possibilità di vedere le cose in originale solo noi eravamo eravamo baciati dalla fortuna ed era strepito cioè ammazzavamo da ridere e le facciamo tutti e sei insieme poi hanno capito che non era cosa perché non si andava avanti e ci hanno diviso maschi contro femmine i tre maschi e le tre femmine e poi abbiamo cominciato a fare dopo qualche anno le colonne separate e lì è finito il divertimento finito no nel senso che ci divertiamo sempre ma molto meno però non sapevamo che avrebbe avuto successo ma che era divertente si vedeva per noi era molto divertente sai non avevamo la misura di quanto sarebbe stata nazional popolare perché era anche una serie particolarmente intelligente per cui non sai mai se puoi incontrare il pubblico se il pubblico vuole qualcosa di un po' più leggero insomma lì era era persone medio colte insomma a noi almeno dava questa impressione evidentemente non è stata così perché è stata talmente trasversale che è andata bene sì sì però sì sì ci rendevamo conto che era molto divertente poi era un periodo che di sitcom se ne facevano tante cioè io ho fatti i Robinson ne avevamo fatto robetta certo mica da ridere insomma e questa era si capiva che era una novità soprattutto la fascia d'età perché la serie precedente che ha avuto grande successo che era Beverly Hills 92 erano più giovani comunque anche se non erano giovani gli attori erano rivolte a un pubblico più giovane perché si parlava degli amorini delle cose era tutto molto più molto più easy invece questi erano persone che si affacevano cioè la vita del lavoro insomma adulti o i problemi da giovani adulti con problemi dei giovani adulti qualcuno era sposato separato però era molto divertente abbiamo fatto anche belle cappellate perché Joy Tribiani abbiamo scoperto poi quando è arrivato allo spin off Joy che si chiama Triviani o il contrario non mi ricordo sì Triviani Triviani ancora me lo ricordo Sergio Stefano direttore noi diciamo facciamo le prove Phoebe ma che nome è Phoebe ma no Phoebe ma come Phoebe 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 Gates no 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 chiamiamola Phoebe eccoci qua dieci anni di Phoebe che tutti ma perché l'avete chiamata Phoebe vai a chiedere è morto Sergio quindi non lo so 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 è veramente veramente iconico il tuo personaggio preferito era comunque Ross che hai doppiato oppure c'era un altro no Joy ah Joy beh Joy 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 tutta la vita Chandler la sua ironia però Ross con la scimmia Ross ha fatto accadere le peggio cose mi piaceva mi divertivo tra l'altro gran bella distribuzione perché non sposterei niente cioè non so come dire no non ti pensi e la reunion? la reunion ho pianto devo confessare quando sono andato a farla l'abbiamo doppiata due volte perché l'abbiamo doppiata la prima volta in oversound quindi con l'originale sotto basso e fuori sync e poi hanno voluto anche doppiarla a sync col copione adattato però non è mai andata in onda forse andrà su qualche DVD e ormai era bruciata cioè chi la vuole vedere l'aveva vista e la stessa cosa è successa adesso con Harry Potter quando è uscita doppiata l'hanno già vista tutti in originale sì era uscita tipo un mese dopo sì sì è vero però i veri fan l'hanno io oddio mi hanno fatto un po' tenerezza perché il mio è rifattissimo si è rifatto veramente la qualsiasi e Chandler Corello gli ha da 10 anni di tossicodipendenza e si vede e si vede e si vede Gioia è fighissima Gioia è un grassatissimo ma fighissimo uguale e quella matta di Monica Monica è impazzita cioè io l'ho vista perché ha fatto io dirigevo una serie che secondo me era la serie più bella di tutti i tempi che è Shameless e quella americana sì e c'è stata lei ha fatto la protagonista di puntata e ci ho messo Barbara di Bortoli chiaramente quando l'ho visto ma questa è impazzita si era già rifatta la qualsiasi ma se è mostro sembra la regina dei Raitt e e e poi chi c'è c'è Rachel 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 fa me l'impressione perché abbiamo continuato a vederla sì per fortuna perché se lo merita dai Rachel l'attrice Jennifer non so se è la attrice però Jennifer e poi l'età per lei non passa cioè più passano gli anni ed è sempre più bella sulla reunion ma c'ha pure 50 anni pure però a me quando abbiamo iniziato a me piaceva Monica dai perché perché come te è precisa no no mi piaceva a livello esterico a livello esterico spanchi tu fai sul sentimentale mi piaceva proprio Monica una bella guagliona come dicono che poi la mia sorella anche un po' incestuoso poi ho visto che su youtube avete fatto avete replicato anche voi la sigla voi c'era questo ragazzo maggio quanto mi dispiace non mi ricordo un nome adesso che ha fatto un sito che si chiama Calliopea ma puoi vedere Calliopea il sito come si chiama il ragazzo che mi dispiace non citarlo che è morto che era un grande appassionato di doppiaggio e aveva iniziato con Ritorno al futuro infatti aveva una DeLorean mi ci sono fatto le foto anche mio figlio bellissima la DeLorean fichissima e Marcucci ma non è Marcaccini Nicola Marcaccini lo sono ricordato ed era un appassionato aveva organizzato le reunion di Ritorno al futuro poi era appassionato di doppiaggio in genere poi è arrivato Franz è diventato un appassionato di Franz avevo contatti poverino aveva un tumore al cervello da quando era ragazzino sapeva che non sarebbe campato tanto e economicamente stava abbastanza bene credo di famiglia e quindi insomma aveva modo di portare avanti questa sua passione con buoni mezzi anche buone conoscenze lui era di cattolica riccione da quelle parti lì e ci propose di siccome c'è una fontana credo sia cattolica quella dove abbiamo girato che è molto simile alla fontana dei dei Franz se avete visto il video la fontana somiglia tanto e ci disse se volevamo andare ci ha offerto il pernotto insomma lì in albergo a noi tutti noi con tutte le nostre famiglie quindi siamo andati e abbiamo fatto un'intervista radiofonica fiume il pomeriggio e poi la sera abbiamo girato ma ci aveva antirettore della fotografia cioè ci aveva un bell'apparato è stato difficilissimo perché mentre la sigla originale loro hanno fatto casino e poi l'hanno montata chiaramente sono varie cose e poi l'hanno montata noi per farla uguale facciamo frame by frame che lì ci sono dei pezzettini che durano un quarto di mezzo secondo e devono durare mezzo secondo perché stanno sulla musica quindi non è che tu lo puoi fare più lungo quindi noi ogni inquadratura che facevamo andavamo al monitor vedevamo il pezzetto della sigla originale poi andavamo ci mettiamo sul posto preparavano un inquadratura che fosse uguale a quello originale e noi dovevamo fare solo quella cosa quindi ci abbiamo messo la sigla è lunga 4 ore e mezzo credo ci abbiamo messo l'unica cosa che siamo andati a ruota libera è dopo il tuffo perché chiaramente non avevamo le tempistiche la possibilità di cambiarci i vestiti e di farli e quindi abbiamo detto quando abbiamo finito tutto quanto dice ok da adesso ci si tuffa in piscina e poi liberi tutti ci eravamo guardati il video vediamo quello che facevano più o meno poi il quadratura finale quella con chi sono io che faccio così con le braccia insomma l'abbiamo fatta però faceva un freddo becco la fontana era freddissima e l'abbiamo fatta tipo ai due di notte quella molto bene però divertente molto divertente il risultato è carinissimo io lo devo recuperare dove l'ha inviato il link? ah in chat su twitch inviammelo pure in privato perché sennò addio dai così me lo recupero perché sono molto curioso adesso non l'hai mai visto? no non ho mai visto il remake sono dovuto pure andare a comprare il vestito nero che non ce l'avevo poi dove mi devo fare in piscina sono andato da massa a comprarlo perché mi metto poco butto per spendere poco tu che sei di sassi non sai cos'è massa magazzini allo statuto il posto meno caro la roba di qualità insomma non eccenza facciamo così per evitare querele bene bene che dite ragazzuoli passiamo un po' di domande della chat ne ho viste parecchie e gli voglio dedicare un po' di spazio se siete d'accordo lo mettiamo il jingle quello che ci fa imbarazzare o no? pallo pallo ragazzi della chat io domani la faccio sparista cosa ve lo dico no sì perché poi diamo tanto l'idea di professionalità poi mettiamo sta cosa e croller insomma cascalassi io domani lo cancello poi dirò ups si è cancellato sappiate comunque allora la prima domanda che vedo ragazzi allora precisazione le domande scrivete tanto e la cosa mi fa molto molto piacere le domande evidenziate mele non le leggerò tutte ma andrò a caso usate i gigovat usate i gigovat per evidenziarle allora Lost Boy Under The Wood buonasera può parlarci della sua esperienza con Futurama sì è stato bellissimo perché era il periodo antepiattaforme voi non sapete ma queste piattaforme abbiamo a che fare con non si sa chi qua cioè non riesci mai a interloquire con un cliente con qualcuno per interfacciarti per decidere cosa fare come comportarti invece lì era prima hanno affidato la direzione a Giorgio Lopez poverino e Giorgio Lopez che era un genio assoluto gli hanno dato non dico carta bianca ma carta grigia insomma e abbiamo fatto la qualsiasi cioè cambiamo tutto abbiamo cambiato tutto diciamo un terzo di quello che dicono loro per esempio il mio non c'erano le creative intent come si chiama adesso dove ti dicono tutto del personaggio come si chiama il padre la madre il nonno il somaro dove è nato e noi pensavamo fosse indiano quando è iniziata la serie come parlava e come era fatto e quindi ho detto vabbè far accerti indiano questo che parla un po' tipo Hollywood party per intenderci no? e allora facciamo indiano facciamo indiano dopo credo tipo due tre anni scopriamo che era giamaicano e è diventato indo-giamaicano in poi è sempre stato indo-giamaicano ma in originale è sempre stato solo giamaicano quindi noi avevamo deciso che era indo-giamaicano ogni tanto noi lo diciamo anche questo fatto che era indo-giamaicano ma questo ti dice quanto facevamo come ci pareva altri tempi Giorgio aveva delle idee geniali era fantastico che poi noi adesso l'abbiamo cioè non te lo potresti immaginare in maniera differente quel personaggio perché è entrato nell'immaginario collettivo in quel modo allora tu pensa quant'è la mia rovina Futurama e rovina tra virgolette e ci hanno invitato alla mini Italia che sta pure quella dalle parti dei cattolichi a Rimin sulla sua rilevata teatica un bel po' d'anni fa ci hanno chiesto se eravamo disposti a fare le voci sai quando vai con le cuffiette quando passi davanti al monumento la cosa c'è la guida e le guide erano fatte tutte da noi doppiatori e la mia è fatta con la voce di Futurama che spiego come pare il castello di Miramare di Trieste e poi il ricavato del noleggio delle cuffiette era in beneficenza quindi siamo andati a farlo per quello siamo andati gratis assolutamente su Antonio Genna la mia voce registrata il file della voce sono io che faccio Futurama abbiamo scoperto dopo anni io ho sempre avuto quella che alcuni clienti i clienti se non hanno presente la voce dell'attore che gli viene proposto al direttore lo vanno a sentire su Antonio Genna e di me vanno a sentire Futurama se io devo fare se la parte ne so Principa Azzurro Principa Azzurro io ne ho fatti pochi nella vita ma una cosa serissima lì si trovano io che parlo con la voce senza le doppie non la sapevo e quindi alcuni clienti addirittura vanno a sentire l'audio di Genna quasi tutti ah l'audio di Genna si basano su quello quello è uno strumento che c'è sta là conoscono tutti tu sai quante volte io perché sono micro perché se no quante volte ho detto un po' che chiamo Antonio Genna e dico senti metti un'altra cosa ma anche ci sono dei doppiatori che ne so veroni capuccio c'era una cosa che c'era a sei anni però sai sei anni la senti vabbè vecchia no ma appunto per quello dicevo perché magari consultarlo per il ruolo e tutto ha un senso però se ti devi fermare solamente a quello specifico audio dato che ci sono alcune voci no molto caratterizzate ma sai se non te la ricordo se non ti ricordi la voce oddio che voce ce la fa mandare a sentire vabbè Simo ma come si fa a non ricordarsi la tua voce dai la ce la fa no dai chi ce va Simone 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 guarda che dopo spanchi ti chiederà il numero di telefono quindi io io ti avviso prima quindi cerca di ignorarla cerca di ignorarla perché se poi questa te la colli non te la scogli più è una di queste quindi io te la avviso da quella che sei spanchi non è vero non sono così una pseudo stalker faccio complimenti o giocatemi come dice qualcosa Luciana scusa Simone si è detto che hanno annunciato i nuovi episodi che dovrebbero uscire l'anno prossimo di Futurama si non lo sapevo si hanno deciso di continuarla eh chissà chi la dirigerà lì era se ne importa lì il manico era tanto cioè è uno così creativo lì che inventava cose magari era tanta roba beh può darsi noi può darsi perché ormai la nostra società perché lì c'era Fabrizio Manfredi Pinella Dragani non so chi la doppiera che ha smesso di doppiare che faceva quella con un occhio solo non mi ricordo Lela 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 non c'è più eh Dario Vengo io Dario Vengo io fare a Bender e Sergio Graziani era già diventato Mino Caprio quindi quello c'è beh si può fare qualcosa si può fare Rossella Cedbo che faceva Amy Wong Amy Wong ma sei una macina se io ti ricordo no no che si ricorda quello c'è tutto il computer davanti eh stai smanetta mentre parlavo io galoppo verso l'Alzheimer no ma non è vero era è la mia serie forse animata preferita anche più dei Simpsons dei Griffin è figa figa però è un po' più de nicchia i Simpsons ci hanno avuto più risonanza beh perché hanno iniziato un po' questo cioè mio figlio i Simpsons li conosce Futurama non lo conosce eh no i Simpsons sono più a livello globale Futurama si è un po' più di nicchia ma comunque è molto conosciuta è molto perché poi vabbè i Simpsons sono ancora in onda è sempre Matt Groening no? Futurama giusto? sì sì quindi lo stesso creatore di Simpsons e si vede si vede che comunque hanno dei tratti in comune ma sì bene prossima domanda next Andrea Crab25 buonasera a tutti volevo chiedere a Simone se si è divertito a doppiare il cattivissimo Rasputin nel film The Kingsman le origini molto 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 me lo ricordo un po' poco perché me lo ricordo perché i film mi sono piaciuti molto i primi due l'ho visti con mio figlio io c'ho un figlio che ha 16 anni e mezzo e ce li siamo visti quando sono usciti e ci sono piaciuti tanto quindi quando sono andato a farlo che non lo sapevo appena ho finito gli ho mandato un messaggio gli ho detto oh ho fatto Kingsman ho fatto Rasputin sono divertito perché beh il personaggio è figo è stato contento anche lui sì sì molto contento beh mio figlio quando era piccolo l'unico vanto suo del mio lavoro era che facevo mantide di Kung Fu Panda guarda che mantide di Kung Fu Panda ha i suoi fan caniti tra cui te e poi l'ho fatta perché era in originale era Seth Rogen sì 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 cosa che non viene rispettata tantissimo sui cartoni animati però là è andata sì già non viene rispettata sugli attori figurate tranne sul protagonista mi pare sul Panda che è Jack Black però non è stato sì vabbè l'ha fatto Fabiolo sì sì era Fabiolo sì mi sembra che sì era Fabiolo povero non vale l'ha portata a casa in mezzo a tutto quello che siamo abituati soprattutto di recente con i talent mi è sembrato un bel risultato io i talent io difendo sempre la scelta del talent non è che difendo i talent difendo la scelta del talent con i colleghi c'è stato un periodo in cui c'erano tutti incazzati queste scelte dei talent rovinano io dico sempre ragazzi è una scelta assolutamente commerciale non dovete vederla nell'ottica artistica è una scelta commerciale perché eh tizio che va domenica in e o in prime time dice da Fazio ho doppiato questo film una pubblicità in prime time costa centinaia di migliaia di euro non c'è partita questi nel contratto del doppiaggio no anche che devono parlare in tutte le trasmissioni che vanno del prodotto quindi è un'operazione commerciale ma Simone questa vista dal lato tecnico no no per carità dal lato commerciale è chiaro però secondo te non sarebbe meglio fare due tipi di contratti nel senso affidare il lavoro magari a chi lo fa di mestiere e stipulare con loro un contratto solo commerciale dove dici ok io ti pago in quanto influencer e tu mi sponsorizzi il film invece di ma un conto un conto è che tu c'hai la Ferragni che ti dice andate a vedere sto film che è bellissimo un conto è che tu vai a sentire la Ferragni che si 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 cimenta grazie non mi viene al termine che si cimenta in un lavoro che non è il suo anche forse con un po' di guayerismo per poter dire quanto è Cagna si innesca una cosa strana e poi nasce tutto bene perché i primi talent sono nati bene cioè tu me ne vedi il mago di Aladin se non faceva Gigi Proietti ma chi caspita lo faceva nasce bene poi li finisci questi qua cioè i proietti li finisci anche perché i proietti non sono tantissimi e poi questa cosa va a finire che vai a sbattere sugli youtuber su gente che non ha né arte né parte o si è partito anche con i cantanti ma aveva un senso se tu prendi per fare il gobo di Notre Dame Massimo Ranieri a parte Massimo Ranieri è un attore straordinario ma è chiaro che prendi un cantante perché ci sono le canzoni e poi con un po' di calma lavori sulla parte recitativa anche se tecnicamente magari non è in grado di farla e a casa il risultato lo porti c'aveva un senso e poi come al solito si è andato sbragando facendo fare cose a chi cazzo capitava certo a me io ho diretto un film ultimamente si chiama Dear Evan Hansen che è straordinario secondo me me ne hanno parlato tutti benissimo è quello della storia del ragazzo del ragazzo suicida giusto esatto è uno spettacolo che è stato dieci anni a Broadway e hanno voluto il produttore che è il padre di Ben Platt che è il protagonista ha voluto che in tutto il mondo fossero doppiate anche le canzoni perché diceva che doveva arrivare questo messaggio salvifico per i ragazzi depressi insomma bullizzati per una problematica insomma abbastanza importante e ha imposto che venissero doppiate le canzoni che è un'operazione secondo me terrificante per chi ama il musical come me è un'operazione veramente di una bruttura sconvolgente però tant'è si era parlato di di scegliere un talent per fare lui io avevo scelto Mengoni però poi lì parli con i clienti eccetera eccetera quindi si erano fatti un po' di nomi quando stavamo poi non si è fatto ce l'ha fatto un cantante normale la cosa impressionante è che i pubblicitari della casa di produzione come tu facevi un nome chiedeva la segretaria guarda quanti k c'ha e io che sono assolutamente analogico ma k di che? mila follower ma che sta chiedendo quanti follower hanno quindi il cantante che magari era più giusto vocalmente o come tipologia di personaggio per fare quel tipo di interpretazione non essendo un attore quindi magari cercava avvicinare se non aveva i i sufficienti k non andava bene andava meglio uno che c'era tanti k che magari era sbagliato capito queste sono logiche particolari che vanno a inficiare la qualità e tornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio all'inizio non si ribella nessuno tu vai al cinema poi diceva sempre Pino Locchi che era il doppiatore Sean Connery per intenderci e dei mille altri diceva sempre il doppiaggio non c'è la controprova quindi non saprai mai chi c'ha ragione cioè non ci sarà mai la possibilità di vedere un film adesso che i remake di vedere un film doppiato in due modi differenti e dire quello è meglio tu lo vedi così com'è se il film è bello ha successo se il film è brutto non ha successo se il film è bello ed è doppiato male probabilmente avrà un po' meno successo di quello che avrebbe avuto ma non lo saprei mai però ti dico che scusami che ti interrompo che prima eravate un po' più nell'ombra adesso invece il doppiaggio sta uscendo di più la gente lo nota quando un prodotto è doppiato da una persona e quando l'ha notato ci stanno petizioni adesso ma guarda io l'unica cosa siamo ancora che non possiamo fare nulla però io l'unica cosa che ho visto smuoversi in questo senso è stato quando Cannarsi aveva doppiato Evangelion non ci voleva un genio c'è chi ci ha lavorato con Cannarsi spero che non ci stia sentendo Ganchiero come stai? faceva cagare cioè era una roba sì l'adattamento sembrava lui lui difende questo tipo di linguaggio perché dice che il suo linguaggio è quello più vicino al linguaggio giapponese però beh cazzo ci sono dei pezzi che io non capisco manco di che sta a parlare però è l'unico caso in cui se è successo qualcosa che l'hanno ridoppiato con altre cose se sono passabili passano e vanno chiaro io sono abbastanza pessimista non sono pessimista attenzione sono realista 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 nel frattempo Simone ti informo dell'inserimento di un'altra frase storica guarda quanti K c'ha ma K di che questa un'altra aforisma che va all'interno 145 nel calderone nel calderone questa poi è una significativa questa è molto bella questa è molto bella fanpage sono mila come il chilo esatto quando dici 250k vuol dire che quell'account ha 250.000 follower sono tanti eh eh sì sono tanti fanpage buonasera vorrei innanzitutto complimentarmi con il nostro ospite per la sua carriera e chiedergli qual è il ruolo che sente più vicino a se stesso a livello caratteriale la madonna eh questa è una domanda tosta c'è un attore o magari un ruolo specifico dove tu hai detto sì questo ha dei tratti caratteriali questo so io questo mi rispetto ci sei entrato subito nel personaggio ma anche direi no magari non me lo ricordo no sicuramente qualcuno c'è ma non me lo ricordo non te lo ricordi Rambo no no mi ricordo finché ho amato tanto fare che mi sono piaciuti e mi sono trovato più bravo o meno bravo però qualcuno dove mi sono rispecchiato ok non me lo ricordo vabbè se ti viene in mente durante la sera vi scrivo se mi viene in mente esatto adesso andiamo un po' avanti andiamo avanti Roberto com'è stata la sua esperienza di doppiaggio in The Flintstone viva Las Vegas dove ha doppiato Fred Flint sua di chi eh sì no ogni tanto si rivolgono in terza dai diamo del tuo fighissimo fighissimo grosso peso perché il primo l'aveva fatto Francesco Pannofino eh eh attore dall'altro che ho doppiato poi in una serie inglese molto carina che c'era un fantasma però non mi ricordo come si chiama The Bunker si chiamava in inglese la serie inglese guarda subito Luciano è andato a vedere ah no mi ricordo so che l'attore che hai fatto in Fred Flintstone è il primo re del trono di spade questo si si pensa che ho rosicato quando me l'hanno non mi ha fatto fare Sandra Cerbo poi in realtà mi ha detto bene perché quello è morto subito la prima stagione io me le so fatte tutte invece attore che mi piace un sacco tra l'altro quello dei Fulmonti l'ho doppiato pure sul destino di un cavaliere beccate questa sono preparatissimo qual era la domanda mi sono scordato la domanda era aspetta la riprendo come è stata la tua esperienza di doppiaggio ah The Flat Flintstone fighissima perché a parte mi sono divertito perché sono cresciuto con gli antenati quindi dire Yabba Dabba Duh per me già era un punto d'arrivo potevo smettere là poi ho dovuto cantare sono dovuto andare dal maestro sì perché cantavo a Las Vegas e facevo una canzone a mia moglie a Vilma e sono dovuto andare a cantare col maestro ho cantato tante volte in carriera però ogni volta mi mi emoziona mi emoziona insomma ci vado con un po' di cagotto quindi è stimolante bene c'è un consiglio che ti sentiresti di dare ai ragazzi che vogliono intraprendere la strada della recitazione e del doppiaggio di studiare di cercare una scuola seria che purtroppo sono sempre di meno il doppiaggio deve arrivare dopo bisogna imparare a recitare il tempo per insegnare a recitare noi non ce l'abbiamo in sala abbiamo il tempo un pochino di insegnare la parte tecnica però bisogna venire recitati al doppiaggio e questo lo fai con lo studio una volta alle scuole laboratorio bottega scaletta accademia arte drammatica duravano tre anni due tre anni e stavi tre anni dalla mattina alle nove fino alla notte in teatro perché poi quando finiva le lezioni c'avevi le prove le prove dei vari saggi che facevi respiravi recitazione stavi là continuamente e questo fa tanto è l'unico modo io dico sempre io mi sentite sono molto romano nella vita parlo molto romano tra l'altro essendo figlio di milanesi cioè sono l'unico romano di tutta la famiglia però c'avevo una serie di parole che sbagliavo io ogni volta che a lezione usciva fuori una parola che si dice posto si dice dopo allora me lo scrivevo con l'accento su un quadernetto io mi ricordo che facevo avanti e indietro quando andavo in teatro col motorino e mi facevo rifacevo tutta la lista delle parole che sbagliavo cioè è un'applicazione costante e continua ininterrotta per anni soprattutto io non sono partito con un grandissimo talento cioè come i calciatori no? c'è Maradona è nato col pallone sul piede e invece c'è gente che magari si è dovuta metterla applicare a carciare contro il muro quindi eh ci vuole la coccia tosta ti senti appartenente a questa seconda categoria di quelli io sì dei lavoratori io sono tutto studio ok bene Andrea Andrea chiede Simone Simone hai diretto il doppiaggio di due film che mi piacciono particolarmente il primo Now you see me i maghi del crimine ho fatto anche i dialoghi ok anche i dialoghi e il secondo Ocean's 8 volevo chiedergli se per caso avesse qualche ricordo di queste due esperienze di direzione del doppiaggio insomma di Ocean's 8 l'abbiamo accennato prima Now you see me sì perché è stato il primo film dove Morgan Freeman non l'ha doppiato mio padre che era ancora vivo però non poteva più doppiare non mi ricordo se l'avevano già tracheotomizzato insomma non poteva più lavorare è stato il primo film che è arrivato Morgan Freeman e toccava trovargli un nuovo doppiatore che l'ho dovuto fare io ho fatto i provini per scegliere chi l'avrebbe sostituito quindi non è un bellissimo ricordo da questo punto di vista e poi mi ricordo che ho rosicato perché quando è arrivato il 2 non l'hanno dato a noi perché è cambiata la distribuzione hanno dato un'altra società non sono stato interpellato e neanche per i dialoghi ho detto vabbè forse una telefonata ma la potevano fare ma certo infatti mi chiedevo proprio mi chiedevo proprio il motivo per il quale invece sei stata proprio a segnalare perché quando l'ho fatto io era forse Universal e poi è diventato è proprio cambiato un film non mi ricordo insomma l'ho fatto un'altra società no non mi hanno chiamato come direttore ci sta perché insomma ogni società ha i suoi direttori di riferimento come dialoghista mi poteva interpellare avrei detto di no comunque quindi è solo polemica perché non amo fare i dialoghi io li faccio solo dei film che dirigo io solo dei film dei film di circuito non è un lavoro che amo e Oceanate Oceanate mi è piaciuto molto perché mi sono divertito c'è un aneddoto su Oceanate ma ne brucia pure raccontarlo ci devi raccontare anche quello di Riccardo Rossi di Riccardo Rossi quello di Oceanate prima nel film devono rubare questa Toussaint la collana che Cartier regalò a Madame Toussaint che è stata la sua direttrice nonché amante per 50 anni è storia vera questa è una collana esistente voi l'avete visto il film? sì verte tutto intorno al furto di questa collana nel doppiaggio del film se parla della collana non me ne so ho accorto subito ho detto ma cazzo ma qua parla della collana che pesa 3,5 kg ma la collana non può pesare ce l'hanno raccontata che avete chiamato il direttore di Cartier ce l'ha raccontata un ospite che è venuto qua Anna Cesareni Anna Cesareni ci ha raccontato questa neve allora vado a sentire se parlava dei libri chiaramente però faceva la conversione 3,5 kg ma non è possibile cazzo una collana 3,5 kg sono due bottiglie d'acqua minerale sono 3 kg se te l'attacchi al collo vai per terra poi tra l'altro nel furto la ficcano nella tasca della giacca di uno la appoggiano su un vassoio sul fianco di un vassoio sotto a un piatto poi l'altro la prende io metto 3,5 kg su un vassoio che uno tiene con una mano il vassoio casca dico ma non è possibile parlo con la responsabile chiedevo guarda che dicono 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 così possiamo far niente lasciamo così niente io prendo e scrivo a Cartier ho scritto a Cartier che mi ha fatto parlare con Cartier insomma sono arrivato al direttore di Cartier a Parigi ho tenuto tutto ho tutte le mail e quello mi è andato il giorno dopo mi è andato ad aprire il cavo è andato a pesare la collana e mi ha risposto che pesava tre etti e mezzo in originale avevano sbagliato le libre con le once e veniva più o meno era tre etti e mezzo insomma che è la signora collana tutti i diamanti tanta roba però non so tre chili e mezzo l'abbiamo detto c'era il referente americano responsabile del doppiaggio qua gli abbiamo detto guarda c'è un errore e lui ha detto no no in originale dicono così lasciamo così gli ho detto scusa ma a un certo punto gli mette sul bassoio del cameriere lui mi ha detto si vede che cameriere era Superman ma che cavolo ma dai e nel film la collana pesa tre chili e mezzo così è rimasto però detto questo non se ne accorge nessuno no poi avete visto il film non me ne saremo accorti non me ne siete accorti me ne accorgerete la prossima volta che voi vedrete certo Riccardo Rossi si parlava di chi da giovane comincia allora noi per anni abbiamo avuto quando c'era il periodo delle nazionali di rappresentanza c'è stato un periodo dove si facevano tutte queste partite cantanti, attori doppiatori andavano molto siccome si facevano tanti soldi e andavano tutti in beneficenza e noi c'eravamo la soddisfazione di giocare a pallone i stati veri con l'erba i campi i campi di serie A e serie B una figata facciamo tutte queste partite di beneficenza e ci allenavamo una volta a settimana c'eravamo gli allenamenti allora una volta prendevamo in giro Riccardo perché gli avevamo detto ah Scarparo cose normali da campo di pallone e a certo punto lui si è citato ma che cazzo volete quando voi stavate nelle scuole di carcere io stavo nelle sale a doppiare questa è la misura di chi ha iniziato da ragazzino a fare doppiaggio e chi invece andava a giocare a pallone era solo per spiegare quindi era una sua la mincella del fatto di aver passato l'infanzia nelle sale di doppiaggio anche perché Riccardo Rossi è uno dei gatti degli aristocatti qualche annetto c'è là quel film però scusami mi sa tanto di scusa nel senso se è una pippa vabbè ma io non potrei come quello il calciatore che ha tirato male ho capito ma c'era il sassolino davanti alla palla in realtà lui ha passato l'infanzia nelle sale di doppiaggio e noi chi più chi meno aveva scuola calcio una lezione di tennis no te lo dico perché i tempi erano questi ragazzi non campano i ragazzini che fanno doppiaggio seriamente non campano escono da scuola e vanno io tutti i ragazzini che fanno doppiaggio tutta la vita che li vedo quei libri di scuola vorrei nelle sale d'attesa e prima entra in sala si fanno i compiti ma anche i bambini hanno dei dei ritmi così serrati anche di più quelli bravi non sanno a chi dai resti perché hanno un turno in meno al giorno un turno e mezzo in meno al giorno perché spesso escono il secondo turno non gliela fanno arrivare all'inizio quindi sono metà del secondo turno e il terzo turno a volte anche il quarto fanno quelli bravi te li litighi perché perché sono bravi fanno una vita all'inferno e poi a 18 anni è vero che appena finita la scuola già hanno casa la macchina la moto la barca però però perdono qualcos'altro è tanto secondo me tanto ed è impossibile lo sento che di no io lo gestisco ma che vuoi gestire cioè o glielo fai fare o non glielo fai fare nel senso che se lo chiamano se cominci a dire di no poi non lo chiamano ma non è una ripicchia perché non è affidabile nel senso che io devo avere la possibilità se mi serve il turno sulla serie il ragazzino deve venire quindi ok chiaro problemino insomma sono scelte ma a parte che molti bambini la figlia di Rossella ha aiutato il mio figlio lei frega niente dalla scuola lei può far doppiare cioè lei piace stare in sala quindi quella non fa testo non è che gli sta allevare qualcosa anzi gli sta dando ognuno ogni bambino ci sono bambini che sono stati i fenomeni George Castiglia che per anni ha fatto tutti che faceva non so il cuscolo del leone mi pare che faceva insomma a moffar fisico nucleare non so tutta altra roba pensa lo pensa tra l'altro in chat Chuck's Fire c'ha suggerito un'altra frase storica che è piaciuta molto guarda ce ne sono due ti lascio scegliere a te Simone se no ci monopolizzi gli aforismi uno è che propongono è questa tra l'altro nel secondo film non mi hanno chiamato neanche per i dialoghi non avrei comunque accettato è solo polemica la seconda invece questa è molto questa è molto carina infatti io sono più propenso per questa la seconda è si vede che il cameriere era Superman secondo me è più carina la prima però decidi no la prima la prima vero la prima la prima e già siamo a tre già siamo a tre ragazzi allora altra domanda andiamo avanti spediti voglio cercare di farne il più possibile in questi ultimi venti minuti così non mi insultate in privato e so che qualcuno lo fa quindi evitate di farlo come è stata la tua esperienza di doppiaggio in Bad Boys dove hai doppiato Mike Lowry interpretato da Will Smith Bad Boys Bad Boys normale perché era il primo film che faceva Will Smith e veniva da Will il principe di Belardo era doppiato da un improbabile Edoardo Neola non perché Edoardo Neola sia improbabile ma perché sia improbabile come età però siccome li cantava e lui è cantante insomma era una scelta legata al personaggio è chiaro che nel momento in cui si metteva a fare dei film seri la voce di Edoardo insomma non l'hanno scelto ma non è che ho deciso io mi hanno scelto perché era in linea con quelli che facevo io poi è arrivato il secondo film abbiamo fatto almeno cinque sei mandate dei provini io ogni volta passavo cioè nel senso venivano scartati tutti e io me lo facevano rifare scartati tutti me lo facevano rifare scartati tutti me lo facevano rifare poi ha vinto Sandra Cerbo il film era Man in Black Man in Black arca miseria l'ha fatto Sandro e chiaramente il film ha avuto il successo che ha avuto e gli è rimasto Will Smith a posteriori sono contento perché a parte Sandra è bravissimo sono contento perché io adesso Will Smith non lo potrei fare no vocalmente non è a livello dei cosi come si chiamava quello di prima del film non mi ricordo mai come si chiama non me lo ricordo non mi ricordo quello di America Psycho ah Christian Bale che tra l'altro è diventato Christian Braille Christian Bale ma ci starei male uguale un po' lo sfondo quindi poi forse sarebbe stato più traumatico se me lo fossi portato dietro per un po' me lo avessero levato quindi va bene così ok va bene va bene così va bene così questa è di complimenti ma la voglio dire perché è un film che mi è piaciuto tantissimo volevo fare dice Andrea 25 volevo fare i complimenti a Simone per il doppiaggio di Olio nel film di Stanley Olio perché è davvero tanta roba ho visto il film al cinema i dialoghi tra Simone e Angelo Maggi che doppia Stanley sono meravigliosi in alcune scene è scesa la lacrimuccia che bello anche perché Simone noi siamo abituati a vedere Stanley Olio sotto il lato comico dei film ma non questo film ci fa concentrare poi sul loro rapporto anche sugli anni dove Olio è stato malato chiedi un po' quanti anni è quello che ha scritto questa cosa Andrea quanti anni hai? scrivicelo in chat appena risponde più di 40 secondo me no penso sia un ragazzo tra i 20 e i 30 anni adesso glielo chiediamo l'età esatta allora abbiamo vinto il nastro d'argento io e Angelo per quel film bellissimo il doppiaggio bellissimo beh io calcola che tutto il film è stato seguito in sala turno per turno dal presidente vicepresidente non mi ricordo insomma due non mi ricordo i nomi ce li ho scritti dei figli del deserto italiano Stagliolio hanno un solo fan club che si chiama i figli del deserto e sta in tutto il mondo si chiama Sons of Desert i figli del deserto in Italia eccetera eccetera ed è l'unico fan club riconosciuto da loro era questo qua e questi qua italiani hanno seguito tutto il doppiaggio dandoci indicazioni insomma quindi è stato fatto bene l'unica cosa che mi dispiace tantissimo è che voi l'avete visto il film? Sì a un certo punto in teatro Ollio canta una canzone che nessuno che nessuno riconosce perché è la canzone che cantava gli allegri legionari che è guardo gli asini che in originale era tutt'altra cosa anche con un'altra musica quando è stato fatto il film hanno adattato su una musica preesistente delle parole in parte scritte da uno in parte scritta insomma ci hanno appiccicato questa cosa che andasse a ritmo col balletto di stallio ma non è legata se voi guardate quel film e guardate gli strumenti di quelli che suonano infatti la musica non va con gli strumenti va con il balletto di stallio è una cosa appiccicata completamente diversa dall'originale non sono riusciti a trovare i diritti di chi erano riguardo gli asini e quindi hanno dovuto mandare l'originale che nessuno riconosce perché nessuno l'ha mai sentita in originale infatti perché io non l'avrei mai riconosciuta ma non potevi non l'hai mai sentita a meno che non avessi visto gli allegri legionari in originale ma quindi il problema è stato che non hanno trovato a chi appartiene non erano riusciti a capire di chi erano i diritti quindi avevano paura a farla perché poi si presentava qualcuno che sparava a zero cifre ok eccetera eccetera quindi nel dubbio io l'ho fatta la canzone ce l'avevo pure ma non so più dove l'ho messa perché me la so fatta da e non è stata usata per il film oh nanetti per tutti eh attenzione aneddoti a go go aneddoti a go go adesso sappiamo che tu hai insomma la campionatura cioè il pezzo di 5 minuti con l'intelligenza artificiale la canzone addirittura degli allegri regionali sei un custode di segreti non ho idea dove ce l'ho la canzone ma ce l'ho perché mi hanno fatto ma su una chiavetta forse sul computer vecchio dovrei cercarla poi quella canzone storia comunque sono io se volete ve la ricanto ve la registrata va bene va bene ormai l'hai detto ormai l'hai detto in live non puoi tirarti no non sono jukebox in nostri osp no 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 però insomma si è proposto lui come fai a rifiutare poi magari si offende come sono io non mi ricordo neanche le parole no 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 vabbè quella poco professionale sarei io vabbè ormai l'hai detto facciamo fare una bella clip al canale con lui che canta gli allegri sai che bello di quel film abbiamo anche fatto tutti i pezzi delle comiche quando stanno in teatro che loro rifanno le comiche perché loro l'abbiamo fatti parlare normale perché è nella vita normale quando fanno stallio e olio avevamo fatto non mi ricordo se due o tre versioni di ogni cosa con una più caricata cioè più somigliante nel mio caso ad Alberto Sordi una un po' più normale e una media sì tre versioni abbiamo fatto poi hanno deciso hanno scelto quella media cioè non hanno fatto quella più spinta o ripeto dolci queste cose qua non le hanno prese hanno preso una cosa un po' più perché dice giustamente andare a fare il verso a quella roba là rischi la figuraccia insomma rischi ti sei trovato d'accordo quindi con la decisione sì assolutamente sì anche se secondo me si poteva fare una cosa siccome erano talmente pochi quei pezzettini io l'avevo anche proposto ma non mi ricordo perché non si è fatto dicevo portiamo in sala i pezzi veri originali tanto erano proprio due battute ogni cosa mi metto là me la fai sentire quattro volte e poi io lo faccio lo rifaccio uguale insomma però poi è stata fatta la scelta più giusta secondo me insomma un film è un biopic comunque è chiaro che non sono loro quindi va bene anche che non sia identica la cosa un po' nel mio caso c'era anche il problema che era Alberto Sordi quello certo sono eredità pesanti molto come ne vuoi sbagli Willow by the River chiede ciao Simone nella tua carriera hai doppiato attori di diverse nazionalità e con accenti diversi al di là dell'adattamento le cadenze originali possono influenzare l'interpretazione no no cioè francese tedesco inglese non sempre l'italiano parliamo a meno che non doppi qualcuno che ha un accento in originale per cui devi rifare l'accento non ci cambia poco c'è chi si trova meglio è difficile doppiare il francese perché somiglia all'italiano e sembra che parlino velocissimi si è portato ad accelerare un pochino è difficile anche fare gli adattamenti per esempio io col tedesco mi trovo benissimo anche se non capisco un cazzo quindi non so dove sto cioè con l'inglese io mentre doppio so a che punto sono perché più o meno capisco quello che dico il tedesco però una volta che l'ho provata se va bene il ritmo mi piace hai capito il tedesco però non non ci cambia niente insomma noi sempre l'italiano parliamo ok altra domanda da Chuck's Fire parlando di aneddoti mi piacerebbe sapere se ne puoi raccontare uno su Shameless bella domanda io Shameless sono innamorato di quella serie trovata geniale da subito non me ne ricordo no mi ricordo solo che non vedevo l'ora che arrivasse la nuova stagione perché finivano sempre un po' impiccata la serie cioè ti lasciavano sempre un po' appeso e io vedevo l'ora di che arrivasse la nuova stagione perché appena arrivava subito guardavo a vedere il video anche se c'è un copione niente e vede cosa era successo eri proprio fan no Shameless è bellissima bellissima una serie cruda ma divertente è quello con la famiglia che so tutti un po' scappati da casa sì sì peggior parte tra l'altro con Fiordattori il protagonista è William H. Massey premio Oscar è proprio l'ultimo credito e invece altra domanda ti chiedono come è stata l'esperienza nella serie tv Arrow dove hai dato la voce al personaggio di John Deagle anche una serie molto longeva Arrow io non amo il genere però una serie che faccio da tanto il mio si è ingrossato negli anni è diventato sempre più muscoloso quello che facevo sempre più grosso poi ci abbiamo le prese in giro perché sono l'unico che pure quando sono diventato mezzo supereroe non c'avevo nessuna divisa solo un casco pulsone è vero che è carico sfigato che c'è manco c'è manco il costume e poi c'è lì c'è c'è stata un'andata in onda di un ti amo che avevamo detto per scherzo è stata una prima messa ebbene è andata in onda c'è stata una prima messa in onda su youtube c'è ma non vi dico come ci si arriva lo vado a trovare da soli lo faremo senza altro Luciano ma com'è successo Luciano se non mi trovi sta scena col ti amo calcola che c'è ci ha detto che c'è diggle quindi una scena di arro su youtube con diggle che dice che con un ti amo non doveva esserci mi raccomando allora è successo te la sto mandando fantastico ho dato il link e ti sto mandando grazie è successo così che noi diciamo sempre che questi li pigliavamo un po' in giro perché sono molto maci eccola qua aspetta che so come si fa forse lo trova ah si quello è un errore clamorosi in arruzione italiana xd condividi errore clamorosi in arruzione italiana è quella ammazza Luciano l'hai trovato mazza che macina che sei è successo che questi hanno sempre questo macismo esasperato ho avuto molto macio allora c'era questa scena dove il mio diceva vado in Russia a salvare mio fratello non mi ricordo poi quell'altro vengo con te no non te l'ho chiesto non devi venire e poi c'era sto sguardo finale il mio di spalle il suo che mi guardava e lui mi dice non hai bisogno di chiedermelo e io di spalle ho messo ti amo e lui sorride solo che poi l'hanno lasciata per farla sentire a Riccardo Rossi e tu ti la stai a sentire e lui sorride è stato dopo la sentire a Riccardo l'hanno lasciata appena alto poi l'hanno lasciata per sincronizzatore poi l'hanno lasciata per fonico remix e il fonico remix l'ha ammissata l'ha mandata in onda io la mattina vado al lavoro incontro un fonico un collega nostro che se la vedeva la serie e mi dice bello ruspante ma ma sono dufroci quelli che fanno dico ma che stai a dire di casa l'hanno raccontato l'hanno raccontato ma no ho visto ieri ma che stai a dire ma che stai scherzando ma no ho visto in onda ieri sera namo su internet era successo finalmente ha fatto coming out e cosa ma guarda è successo un patatrack poi solo in Italia perché è successo un patatrack poi chiaramente abbiamo fatto il pick up e dalla seconda messa in onda era stato cancellato quindi non c'è più cioè adesso non c'è stato però insomma il collega fonico poi se ne è rimasto anche deluso del ma che il fonico di mix o la mon picchia è una roba che è andata così un errore insomma che però è bellissima c'è sta tutta e dopo quando la vedrete mi sapete di dire guarda non vediamo non vediamo non vediamo non vediamo ci dissociamo però non vediamo dovrei vederla guarda bellissimo ti giuro non ridevo non ridevo così tanto poi i commenti erano del tipo qualcuno diceva finalmente qualcuno diceva ma no ti amo è nel senso ti voglio bene è un senso più profondo perché hai lo più in inglese c'era invece una ragazza che non so dove l'ha beccato che aveva scritto su sta chat che abbiamo trovato la mattina stessa diceva ma io veramente sono ad ad sentire l'originale e lì non dice niente giustamente ma per me così era e sotto magari la ragazza no non è vero sessista adesso vorrei inserire come frase ti amo John Dingo ah stai penando senza motivo poi tra l'altro quel linketto lì che c'è proprio ripresa col telefonino sullo schermo della tv se vede pure il loghetto del canale che non citiamo ma lo sanno tutti esatto bellissima 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 dai torniamo seri ma è difficile adesso ho riso veramente tanto grazie Simona scrive grazie Simone per averci spiegato il motivo di questo fib insentibile prima febbe febbe si febbe Gaetano buonasera com'è stato lavorare in romanzo criminale bellissima serie un carissimo saluto molto divertente perché iniziamo a girare questa cosa insomma diciamo il campo base il campo base è dove ci sono le roulotte i camerini il trucco il barrucco i costumi del pranzo e poi ti spostano sul set diciamo il campo base che c'era scritto romanzo criminale allora c'eravamo io Francesco Montanari Vinicio Marchionni Alessandro Rojas stavamo là chiacchierate venivano i ragazzetti tipo all'ora dell'uscita da scuola venivano romanzo criminale scusate ma che c'è Kim perché avevano fatto Kim Rossi Stewart e l'altro bello come si chiama il marito d'agolino l'ex marito d'agolino Riccardo Scamaro scamarcio ma c'è Riccardo c'è Kim no questa è una serie ah vabbè grazie arrivederci non ci sai culare nessuno non ci sai culare nessuno in senso buono questo è la prima serie poi andate in onda la seconda serie avevamo la scorta della polizia dal campo base al set ci scortava la polizia perché c'era quando abbiamo girato la scena della sparatoria dove mi colpiscono abbiamo girato da Cilia sono stati tre giorni mi pare per quella scena c'erano qualche migliaio di persone cioè per avere il silenzio sul set per girare c'era gente sopra i palazzi facevano a pupalo a libero e quello c'era tornato per cortesia non possiamo girare è difficile poi aspetta un aneddoto pure su quello il primo giorno di riprese avevo una scena che ci carichiamo in macchina fiero l'occhio ci parlavamo io e mio fratello era la prima scena il primo giorno che lavoravo stavamo provando viene uno dice provate la scena con lui chi cazzo è io sto a rimanere la regista dico ma chi è questo qua è il dialogue coach dico ma che devo girare pure in inglese io non sapevo niente no no è il dialogue coach di romano ah eh sì perché non tutti quello che faceva il commissario per esempio è De Perugia Marco Bocce De Perugia allora proviamo la scena io e mio fratello che è più di trastevere allora proviamo la scena avanti a lui e il dialogue coach ha detto a me non mi vedete più voi due e poi alla fine Emiliano ti è fatto fare un bel volo dall'ospedale allora pure quella di Emiliano l'abbiamo fatta all'ex scuola di polizia che sta a Casal Lombroso l'ospedale è un albergo sequestrato e ci hanno fatto la scuola di polizia poi è rimasto vuoto stavamo in camerino giù e c'è amor copione e c'era scritto da copione a un certo punto lui mi buttava dalla finestra Emiliano siamo amici da una vita lo conosco lavoriamo insieme al doppiaggio insomma abbiamo fatto 14 anni di criminal mind insieme e Emiliano è così allora io dicevo senti io sono curioso di vedere te come mi sollevi dal letto dell'ospedale e mi butti dalla finestra e lui ma davvero ma come fai? dico che ne so io mi sono curioso infatti non si vede lui che entra mi scopre e poi c'è il quadratura di io che volo dalla finestra è impossibile allora ragazzi io poi che volo lo stampa e anche volo dalla finestra ragazzoni facciamo le ultime tre domande e poi andiamo in chiusura perché non vogliamo sequestrare Simone che è stato molto molto carino perché altro sono in camera di mio figlio dovranno a letto assolutamente quindi ne pesco le ultime tre guarda rinuncio anche alla nostra finale per farne una in più voi ok quindi le prendo Portunella questa è prendo le ultime tre questa è lunga di Luca Cola 02 scrive Man oltre a fare i complimenti a Simone voce che a me fa impazzire ogni volta volevo fare due domande che ricordi hai della direzione del doppiaggio di Batista in Blade Runner 20.049 e seconda domanda Batista sì Bautista era Dave Bautista ah ok l'attore che è l'attore il wrestler quello che ha fatto Drax ok ha scritto Batista ok adesso ho capito chi è l'attore e la seconda domanda vista l'imminente uscita della serie del Signore e gli Anelli e visto tuo papà arenato ha reso iconico Gimli ti piacerebbe doppiare il nano o qualsiasi altro personaggio nella serie tv non ne posso parlare è la seconda ok quindi no comment alla seconda e la prima sì mi ricordo l'ho fatto io perché non mi ricordo ho distribuito un attore c'è un secondo nome che ho dato non poteva neanche lui ho detto vabbè ma intanto all'inizio ho detto lo faccio io e poi e poi l'ho fatto anche in altri film tra l'altro mi ci hanno ridistribuito in altri film ho fatto una porcata ero il direttore e mi sono distribuito ma lo faccio sempre di solito sempre su cose piccole faccio un po' come Hitchcock sai c'è chi può e chi non può tu puoi beh io puoi il cliente deve essere d'accordo però però è carino è come un piccolo marchio di fabbrica no? sì dai trailer si riconosce sempre noi riconosciamo il direttore perché quando nel trailer ci sono tutti attori e poi a volte c'è il poliziotto che dice una cosa e poi il poliziotto è Sandra Cerbo che ne so il direttore è Sandro ok questo è un altro indizio che utilizziamo penultima domanda penultima domanda Simone hai mai incontrato attori che hai doppiato? sì chi hai incontrato? Omar sì mi hanno telefonato quando è venuto a Roma a presentare un film non quasi amici quello dopo quello dopo ancora mi hanno telefonato con l'ufficio stampa mi ha chiesto se vuole andare al cinema Esedra che mi voleva incontrare sono andato è stato carinissimo sono salito sul palco con lui ha parlato con i giornalisti ha detto il lavoro si può parlare di sinergie nel lavoro anche questa è una sinergia in Italia io sono io e lui insieme perché mi è stato molto carino carino e Gary Durdan faceva un turno di CSI con Roberto Chevalier e parlando vabbè ciao stasera vado a cena con la sua compagna con una sua amica e il suo ragazzo va bene ciao vado a casa stavo a casa con mia moglie mi telefono a Roberto e diceva che c'è che c'è da fare ti puoi venire a cena con noi a via fauro io perché io sai chi è il ragazzo dell'amica di Elena è Gary Durdan è quello che doppi su CSI e sono andato a cena siamo stati a cena con lui mia moglie ha sbavato per tutta la cena e gli occhi sono gli occhi impressionante impressionante io l'ho chiesto anche dico scusa sei di colore come fai avevi gli occhi così verdi mi ha detto perché la madre è un'indiana cippewa ed è un carattere non è il carattere recessivo è il carattere dominante l'occhio verde si è bevuto una damigiana di vino e parlavamo di moto lui c'ha sei moto a Los Angeles io ero andato con la moto io ho una moto importante diciamo è un Kawasaki 1300 e tre e quando siamo usciti mi fai fare un giro io pensavo dietro a me e dico sì no l'ha voluta provare è partito con la moto mia su via Fauro contromana a 200 all'ora no non tornava più dopo mezz'ora perché si era perso io ho detto sei ammazzato sei ammazzato sicuro con la moto mia invece non salto no invece non salto e poi quando è tornato in Italia ha fatto il padrino di Sky Crime mi è stato il padrino mi ha telefonato e mi ha invitato alla conferenza stampa ma dai molto carino e poi e a New York stavo a New York con Rugantino col teatro avevamo finito sono rimasto una settimana dieci giorni in più a New York la sera stavo a Times Square con un mio amico un collega di Rugantino e stavano girando una scena c'era una stedicam con due che tipo ballavano un nero e una ragazza in mezzo a Times Square tutta la gente intorno e uno spazio lasciato libero con questa stedicam che girava intorno a loro questo mio amico guarda stanno a girare un film guarda quello lo conosco dico ha fatto qualcosa ma quello è quello che doppio io su Criminal Mind era ecco qua non mi ricordo come si chiama e vai Lucio e l'ho appena hanno dato lo stop mi sono avvicinato e glielo ho detto allora glielo ho detto ma che ah sì va davvero ho detto ah come va il programma in Italia insomma quattro chiacchiere poi dice adesso devo scappare perché sennò arriva la gente di così sì ma dice ti scoccia se ci facciamo un selfie perché io non ce l'avevo pensato ha detto no no infatti ci sono fatti il selfie con il telefonio suo e col mio infatti c'ho la foto con lui mi sono fatto a Times Square incontrato sbaglio in mezzo alla strada quindi l'hai incontrati un sacco di qualcuno sì qualcuno sì l'aneddoti bello l'uomo dell'aneddoto l'uomo dell'aneddoto bellissimo l'ultima è proprio su Marcy che ti chiedono che ne pensi come attore se ti è piaciuto poi essere essere associato a lui come voce italiana sì non so quanto me lo porterò dietro perché sono più grande di lui prima o poi credo che me lo perderò purtroppo però sì anche perché lui ha cominciato abbastanza da grande ad avere un po' di successo e sono riuscito a farli quasi tutti io i film quindi dai almeno altri dieci anni poi tanto la tecnologia anche se io proprio quello che mi scoccia se non lo faccio è John C. Riley John C. Riley John C. Riley mi piace tanto ho fatto film bellissimi io mi trovo raramente bravo cioè no non è che penso essere una pippa però sono ipercritico come un po' tutti noi io i film mi sono veramente mi sono piaciuto mi sono dato la pacca sulla spalla da solo è sicuramente uno è Carnage John C. Riley e un altro è il grande Gatsby su non mi è il nome su grande Gatsby infatti infatti guarda Luciano infatti sono stato nel senso ho sempre associato la voce di John C. Riley alla tua quindi mi ha fatto a differenza tua sono molto fan dei supereroi e del lato supereroistico mi ha fatto strano non sentirti in Guardiani della Galassia a me ho fatto girare i coglioni mi ha fatto strano eh no immagina infatti mi aspettavo insomma la tua voce infatti quando ho visto la prima volta ma lì c'è un contenzioso c'è qualcosa di strano no non mi piace non mi piace ok ok mi piacciono le scelte ok va bene ma però insomma è per dire che cioè siamo talmente tanto abituati io su John C. Riley sono affezionato perché i primi film da Magnolia a Boogie Night ho vinto prima di cominciare a farlo quasi sempre io ho vinto 5 o 6 provini tutti scelti in America e loro scelgono proprio in base alla voce perché non hanno altri metri di giudizio è difficile capire se recita bene uno in un'altra lingua quindi loro vanno molto sulla voce poi l'ho fatto in film di Altman dove cantava quindi ho anche tanto match vocale con lui quindi non mettermi c'è la prendo come una cosa personale capito anche perché entri nei meccanismi nelle tecniche ormai ormai tu solo tu puoi entrareci dentro no lo so a memoria come dicevano come i friends io quando facevo Ross già sapevo tutto entravi ed eri Ross sapevo quello che faceva bello molto bello molto bello quando ci accade dai allora allora andiamo in chiusura andiamo in chiusura e ovviamente ringrazio tutti voi che avete seguito la live fino alla fine ringrazio i mod io vi ringrazio non vi ho mai visto quindi non mi sono mai rivolto a voi direttamente perché sono un po' pippa come ho detto all'inizio sono molto analogico e poco digitale però ringrazio tutti quelli che ci sono se è vero che ci sono perché potrebbero anche essere solo sti tre matti che mi stanno a piacere no no ci siamo allora in realtà io non te lo volevo dire Simone però dato che abbiamo tanta stima nei tuoi confronti ci siamo inventati un canale fittizio solamente per averti qui con noi e farti passare queste due non siamo neanche andati in onda era proprio una scusa esatto 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 è stata una una chiamata tra noi esatto però ovviamente no a parte gli scherzi vi ringrazio tutti che veramente stare qui il giorno la sera di San Valentino a seguirci per me personalmente e per noi vuol dire tanto quindi grazie veramente a tutti ma il grazie più grande stasera va a Simone Simone speriamo che ti sei trovato bene che hai passato due ore piacevoli e che sì assolutamente bene grazie mille di averci onorato della tua presenza vero mi scuso in anticipo per Spanky che diventerà un po' fastidiosa comunque noi ci vediamo domani che abbiamo con noi Massimiliano Manfredi poi mercoledì ci sarò io e giocheremo a qualcosa che non vi dirò giovedì invece avremo Alex Polidori mentre venerdì un bellissimo salotto con Davide Ravera dove andremo a decretare anche il vincitore del contest a tema di segno che abbiamo lanciato circa dieci giorni fa quindi settimana settimana veramente molto molto piena molto molto bella ci vediamo domani e buonanotte buonanotte ciao a domani